Se vi servono crediti passate dal link in descrizione e con il codice MENZMR avrete subito un 5% di sconto Offerta per allenare la nazionale che scu... La Spagna Fatemi sapere sotto nei commenti se devo accettare o meno la Spagna Io ragazzi la Spagna l'accetterai assolutamente Salve a tutti ragazzi sono sempre io MENZ Benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Siamo ritornati con la carriera dell'annatore con l'Inter E come al solito ragazzi vi ringrazio per il supporto che date sempre come al solito a questa serie ragazzi Nello scorso episodio abbiamo fatto un sacco di calcio mercato ragazzi ma ne parlerò dopo Perché oggi dobbiamo fare la finale, la finale è una partita singola La partita di Supercoppa Italiana contro la Lazio e quindi parlerò dopo del calcio mercato Prima di tutto ragazzi come sempre vi ringrazio veramente tantissimo perché lasciate sempre tantissimi piace Mi date veramente un sacco di consigli Vi ringrazio anche per i consigli del calcio mercato Come al solito ragazzi saluto un po' di voi Saluto FT10 Matteo Allora ragazzi prima di andare a giocare la partita contro la Lazio appunto Vi voglio far vedere quello che andremo a fare oggi Andremo a fare la partita appunto contro la Lazio ancora qualche giorno di calcio mercato molto intenso E poi io direi che ci potrebbe quasi andare a fare anche la partita con il Cagliari Vediamo quanto mi viene lungo l'episodio Prima però ragazzi come vi ho già annunciato andiamo a cambiare le impostazioni Perché praticamente abbiamo fatto la scorsa stagione a campione Ma quest'anno signori si gioca a leggenda E quindi ragazzi andiamoci a giocare questo big match Questa finale di Supercoppa Italiana Tengo questa formazione classica Purtroppo sia Griezmann che Luke Shaw sono infortunati Quindi Deleufeu e Depay praticamente debuttano E Masuaku al posto di Luke Shaw Io direi che ci possiamo andare a giocare questo match ragazzi Un match veramente veramente molto importante Per partire bene l'anno E comunque è sempre un trofeo Vincere questo trofeo potrebbe essere veramente una buonissima cosa Deleufeu se ne va incredibile proprio lui un fenomeno Siamo a San Siro Inter-Lazio finale di Supercoppa Italiana L'Inter sfida da Lazio che è arrivata in finale appunto di Coppa Italia Perché l'Inter ha vinto sia il campionato che la Coppa Italia l'anno scorso Questa come detto è la formazione dell'Inter 4-2-3-1 utilizzato praticamente sempre l'anno scorso Con il debutto di Deleufeu a sinistra e di Deleufeu a destra Per quanto riguarda la Lazio invece non credo abbia cambiato molto E infatti i titolari sono sempre costantemente quelli Giorgiovic, Bolasimo, Orison, Candreva, Viglia, Parolo, Radu, Maurizio, De Vrai Basta, Marchetti Io ragazzi direi che ci può iniziare Forza Inter sempre sul pesto Cerchiamo di fare un buon match Deleufeu Cialanaglu Il tiro di Kondogbia da fuori Di quanto è uscito questo tiro ragazzi Di quanto è uscito questo tiro Oh mio dio Oh mio dio ragazzi Stazione a Giorgiovic che si gira, Parolo, colpisce Tielemans Stazione a Florenzi C'è Bolasic che la rimette in mezzo Dall'altra parte c'è Candreva Che prova il tiro al volo Finisce di nuovo in rimessa laterale Stazione a Tielemans che vede Deleufeu Partite, partire Ce ne va Deleufeu Benissimo La palla è per Akancianaglu Che vede Icardi Un po' troppo defilato probabilmente Icardi prova a entrare in aria De Vrai Che intervento Perfetto Niente da dire Florenzi La larga per Deleufeu La mette Mazzager Deleufeu Dove c'è Icardi che tira Che colpisce di testa Marchetti si distende Parafacile Candreva Il tiro di Candreva a palo Incredibile ragazzi È successo tutto molto velocemente Non me ne sono manco accorto De Pai Ottima giocata per Kondogbia Poi può andare ancora De Pai Prova il numero De Pai Se ne va Il tiro di Memphis De Pai Il tiro di De Pai E c'è l'1-0 dell'Inter Gol di Memphis De Pai Mamma mia Che gran gol Gran numero Come se ne è andato A basta se non sbaglio era Gran numero Gran tiro A fin di palo Che lo colpisce E poi la palla Fortunatamente entra dentro Eh sì Qua De Pai se ne è andato Benissimo a basta Gli lasciano troppo spazio in aria Tiro veramente defilato Ma imprendibile Imprendibile veramente per Marchetti Qua gran gol di Memphis De Pai E l'Inter passa in vantaggio al cinquantesimo Del secondo tempo Candreva la mette in mezzo Esce benissimo Nardi Un cross che poteva diventare Molto pericoloso Condogbia Bella palla per Icardi Si gira in aria Icardi Icardi C'è indietro Condogbia Il tiro di Condogbia C'è Sananoglu Madonna ragazzi C'è Sananoglu in mezzo Che stava pascolando Non so cosa stesse facendo Sinceramente lì Unasi la mette in mezzo C'è Murillo Ancora Unasi Sulla fascia In seguito da Florenzi E De Luffeu Stavolta Florenzi lo chiude Faccio un cambio Perché Ho bisogno di un po' più di rapidità Nella ripartenza Faccio uscire Sananoglu A questo posto metto Felipe Anderson Il cross di Candreva Esce benissimo Polnardi Che fa ripartire Mauro Icardi Che è un po' isolato Icardi aspetta l'arrivo di Condogbia Lo serve adesso Condogbia Può andare Felipe Anderson Chiuso benissimo da Unasi Volevo proprio questo Ripartire con Felipe Anderson Ma era circondato Veramente da troppi giocatori Attenzione a Felipe Anderson Al suo pressing Su Mauricio Grappa l'ho recuperato Se ne può andare Felipe Anderson Attenzione È freschissimo Aspetta l'arrivo di Deleufeu Eccolo qua Deleufeu Bella palla in mezzo Per Felipe Anderson C'è Icardi Che non colpisce di testa Perché viene anticipato Da Mauricio Dieci minuti alla fine del match De Pai recupera un gran pallone Può andare De Pai C'è dall'altra parte Deleufeu Condogbia lo serve benissimo Attenzione perché Deleufeu Può rientrare Sul suo piede Deleufeu La gioca per Tieleu Felipe Anderson Scusate ho sbagliato il nome Mi sembra la Tielemans La gioca per Felipe Anderson Che tira di prima Ma qua devo fare un cambio Perché anche Deleufeu Mi sta veramente Faccio Faccio tre cambi ragazzi Metto Inaki Williams Al posto di Deleufeu E metto Mares Al posto di De Pai E poi Felipe Anderson Mi fa l'esterno sinistro Come abituato La Lazio è tutta sbilanciata In avanti ragazzi Guardate la minimappa Guardate la minimappa ragazzi Se gli rubiamo il pallone adesso Facciamo Una ripartenza Incredibile Il fatto che loro sono Veramente tutti su E c'è veramente il rischio Di sbagliare qualcosa Attenzione Mauricio Il tiro di parolo Fuori Brivido per l'Inter A 5 minuti dalla fine Attenzione perché mancano Due minuti Mares Buon recupero La palla è ancora lì Giorgiovic La mette in mezzo come può Chiù la mette in mezzo Biglia Murillo la mette fuori Poi con Dogbia Via sto pallone Di Felipe Anderson E andiamo E anche la Supercoppa Italiana è nostra ragazzi Che prestazione A leggenda ragazzi Sarà stata Questa sarà la quinta partita Che faccio a leggenda Ci siamo comportati benissimo Abbiamo attaccato Abbiamo sfruttato La nostra La nostra occasione migliore Poi ci siamo Fiondati in difesa Cercando di fare Di creare un muro nero azzurro E così è stato Grande partita ragazzi Veramente grande prestazione Stavolta Il capitano è Mauro Riccardi Un'altra coppa Meritata Devo dire E come sempre Con la Lazio È sfida vera Perfetto Meglio di così Non poteva andare ragazzi Meglio di così Non poteva andare E quindi anche la Supercoppa È andata ragazzi Spero che magari Mi diano Mi diano del budget Prima di andare a vedere Il calcio mercato ragazzi Facciamo gli allenamenti Alleniamo i card Voglio far arrivare i card A 83 Prima dell'inizio Del campionato In resistenza Mi Mi perde un po' Quindi gli farei fare Dreamling veloce Così mi aumenta La resistenza E l'agilità Simuliamo questi allenamenti Speriamo che vadano bene De Paio e Musacchio Molto bene Ora Andiamo in ufficio Perché dobbiamo continuare Il nostro calcio mercato Questa era l'offerta Per Paul Pogba Ragazzi Abbiamo offerto Perisic Loro saremmo Disposti a lasciare partire Paul Pogba In cambio Di 86 Milioni E 500 Proviamo questa Minchia ragazzi Non possiamo offrirgli Di più Ok Avevo fatto un paio di offerte Per quanto Mi riguarda L'attacco Il centrocampo E la difesa Qua abbiamo tutte offerte Troppo basse Qui avevamo Un'offerta per Lukaku 20 milioni Più lungo Purtroppo Però Black Ragazzi Sarà veramente dura Proviamo Con un altro portiere Magari Di Gennaro Io ragazzi Ci provo E poi 15 milioni Perché Nardi Ho paura Molto spesso Ho paura Allora Volevo fare un'offertina Anche per Marcos Rocco Io farei 13 milioni Più Dato che non sono interessati Ad Andreoli Proverei a metterci Laxalt Poi volevo acquistare Questo attaccante Ragazzi Molto giovane Di grande prospettiva Che si chiama Leroy Sané Ha un esterno sinistro Ma può fare benissimo Anche L'attaccante L'ongo Facciamo uno scambio Un po' Alla pari Più 3 milioni Per Sané Anche il Correa Non sono interessati A Puskas Proverei allora A metterci sempre L'ongo Perché è comunque Un attaccante Correa Fenomeno ragazzi Fenomeno vero Più aumentiamo L'offerta Di 12 milioni Per quanto riguarda Baciuai Sono interessati A Longo Ma l'offerta È troppo bassa Baciuai è forte Io proverai 20 milioni Più Longo E allora per la Port La vedo dura Gli offriamo 28 milioni Ragazzi Più Andreoli Al Bayern Monaco Mentre De Bruyne Non possiamo Comprare più De Bruyne Ragazzi Non possiamo Comprare più De Bruyne Allora abbiamo Un'offerta di trasferimento Per Polnardi Ragazzi Di 3 milioni E 600 Che strano Questa offerta Io Per Polnardi In questo momento Chiedo 18 milioni Il Valencia Ha accettato Ivan Peric Più 10 milioni Per Paco Alcacer Paco Alcacer È forte Paco Alcacer È forte Preferisco Prendere Paco Alcacer Che Ross Barkley Sinceramente Per il momento Pogba Ragazzi È in super Standby Perché È Imprendibile Credo Per il momento Per quanti soldi Ho Allora Hanno accettato Martial Baciuai È vero Anche che Paco Alcacer Perisic Più 10 milioni 8 milioni Questo è Samuele Longo Allora Vado a vedere Un attimo Ragazzi Chi è il più pronto E il più promettente Allora ragazzi Ho guardato Online Paco Alcacer È una bestia Paco Alcacer È veramente Una bestia Questi potremmo Acquistarli In ogni caso Perché comunque Se ne va un attaccante Prendiamo un attaccante Io porterei avanti Le porterei avanti Tutte e due Perché si Martial è più giovane Ma cresce meno Per quanto riguarda Baciuai Sono 2 milioni in più Attenzione Perché ha accettato Laporte E Paco Alcacer Benissimo Benissimo Ha accettato Vabbè Stipendio settimanale Ma te ne do anche 140 Buon Laporte Bonus Retting Violate Giocatore chiave Prima squadra Assolutamente Titolarissimo Laporte Per quanto riguarda Varane 20 Madonna 30 milioni Più Bardi Per Varane Sono troppi Ragazzi Sono troppi Sono troppissimi Veramente troppi Proviamo ad offrire 160 a Varane In questo caso È meglio Varane O Laporte Oh Abbiamo delle offerte Di mercato Aspettiamo Condogbia Abbiamo detto 40 milioni Per Condogbia New Curie Prestito per un anno Accettiamo il prestito Al QPR Crescimi bene A San Juco Ricci Vediamo il prossimo anno E Griezmann Ma come fa ad avere così tanti soldi Il Torino Vorrei sapere Ma no Ma Griezmann Non lo rifiutiamo Assolutamente Manca ancora un po' di giorni Proviamo a Nel caso giochiamoci Questa Prima partita di campionato Ragazzi E speriamo che vada bene Contro Contro il Cagliari Andiamo Allora ragazzi Griezmann Ha ancora il Cerotto Però io metterei Luke Shaw Al posto di Masuaku E poi lascerei La formazione Con cui abbiamo vinto La partita Contro Contro la Lazio Andiamo San Siro Inter Cagliari Prima partita di campionato Prima partita di quello Che l'anno scorso È stato il primo trofeo Stagionale Alzato Un campionato Sofferto Soffertissimo Quello dell'anno scorso E sarà ancora più sofferto Dato che giochiamo a leggenda Quest'anno Contro Subito contro una neopromossa Il Cagliari Ragazzi Si presenta con Storari Un ex D'Ambrosio a destra Benedetti Capuano Murru Dessena Donsadi Gennaro Guyen Marco Sau E Cerri Dobbiamo fare attenzione ragazzi Non dobbiamo sottovalutare Ovviamente Questa Questa squadra Che palla per Cialanoglu Attenzione Cialanoglu Davanti a Storari Cialanoglu Arriva De Ulufeu Però De Ulufeu Gerard De Ulufeu Dopo tre minuti Porta in vantaggio l'Inter Con Cialanoglu Qua sera ha mangiato Un gol pazzesco Un gran pallone di Depay Storari Miracolo Ma poi De Ulufeu Fa Esegue un tap-in Vincente Facile facile La buttaglia In porta Quindi primo gol Anche per De Ulufeu Dopo Il gol Di De Pai In Supercoppa Italiana Anche De Ulufeu Segna la sua prima rete Con la maglia dell'Inter 36 metri Cialanoglu Comunque il piede Ce l'ha sempre Può andare a Cialanoglu Palo Mio dio ragazzi Questo è un fenomeno Non posso Non posso comprare Un C.O.C. Guardate che punizione Che ha tirato ragazzi Palo Storari Che parata Che parata ha fatto Storari Ma qui Di Gerard De Ulufeu Ottima Ottima partita Da parte Del neoacquisto Dell'Inter Provenente Dall'Everton E nato Nella cantera Del Barcellona Tielemans Per Condogbia Arriva da dietro Florenzi Prova il tiro Florenzi Che gol Che gol Di Alessandro Florenzi 2-0 La sua specialità I tiri dalla distanza Ragazzi Un gol sotto l'incrocio Un gol sotto l'incrocio Pazzesco Niente da fare Per Marco Storari Qui la giochiamo benissimo Con Dobbia Attentissimo A vedere Florenzi Da dietro E niente da fare Per Marco Storari Qui un gran gol Di Alessandro Florenzi Mamma mia Guardate come scende il pallone Fascia destra Spettacolare Oggi dell'Inter De Ulufeu e Florenzi Firmano Il doppio vantaggio Dell'Inter Può andare a Luke Shaw Adesso da solo Dopo Il buon pallone Di Di Depay Attenzione a Luke Shaw La mette in mezzo Dove arriva Icardi Che può staccare di testa Mauro Icardi E finalmente C'è anche la sua firma 3-0 Ma cosa ha fatto Luke Shaw Ragazzi Si è andato in velocità Messo un cross In mezzo pazzesco Preciso Sulla testa di Mauro Icardi Che da lì Niente poteva fare Che Metterla in porta Veramente un cross Precisissimo E Mauro Icardi Da lì non perdona Attenzione a Mares Che dà una gran palla Per Memphis De Pai Il tiro di De Pai Storari Poi c'è Brozovic A porta vuota La tira fuori Peccato Attenzione C'è il gol del Cagliari Di Barbo Porca puttana Non volevo prendere gol No qua Murillo Si perde totalmente Farias Se non sbaglio O Cherry Credo E poi Barbo Dal delì Piega Nardi Che poveretto Si è trovato Ibarbo A tirargli da un metro Finisce qua 3-1 Comunque I primi 3 punti Di questo campionato Di Serie A Sotto la pioggia A San Siro Molto bene Un'ottima partita Di tutti I nostri ragazzi Soprattutto La fascia destra Di De Luffeu E Florenzi Credetemi ragazzi De Luffeu Veramente forte Vediamo come andranno Questi allenamenti Vediamo se qualcuno Riesce a salire Di overall E andiamo Signori E andiamo Sia De Luffeu Che Memphis De Pai Salgono di overall E guardate un po' De Luffeu già all'80 Ed Epai all'83 Offerta accettata Per Varane Oddio Oddio Bardi Più 30 milioni Ragazzi Accetto Bardi Più 30 milioni Accetto Varane E' un nuovo giocatore Dell'Inter Ragazzi Varane E' un nuovo giocatore Dell'Inter Pazzesco Mamma che acquisto Che siamo andati a fare Ragazzi Anche Laporta Aveva accettato Guardate un po' Ma non ho i soldi Aspettiamo Ma non è inutile aspettare Mentre Paco del Kasser Mi fa Mi fa veramente bestemmiare Devo offrirgli un sacco di soldi Semplicemente Con bonus per gol Di 15% 4 anni di contratto Giocatore chiave Se non acciati così Paco Sinceramente Cioè veramente Se è un rompicazzo Pazzesco Oh Finalmente Ragazzi Finalmente Accogliamo A braccia aperte Il buon Paco al Kasser Per una somma Di trasferimento Che va Di 10 milioni Più Ivan Perisic E secondo me Questo è un gran acquisto Ragazzi Andiamo un attimo A vedere la rosa Ragazzi Andiamo a vedere la rosa Perché è veramente Fuori di melone Questa sarebbe Più o meno La formazione titolare Più o meno Ragazzi Perché comunque Abbiamo un Griezmann Che mi può fare anche Il COC E quella è Probabilmente La posizione da COC E lo stesso Cosa può fare Può fare Depay Se no Abbiamo anche La possibilità Di usare Le ali Ragazzi Oppure Quella che sto usando Adesso Avvero il 4-5-1 Così Con Icardi Paco al Kasser Può fare solo L'attaccante E la T Quindi potrebbe Potrei mettere anche Paco al Kasser Dietro Griezmann a destra E così Ragazzi Abbiamo veramente Un sacco di Un sacco di scelte E questo Varani qui? Ora ragazzi Andiamo a vedere Cosa altro Si potrebbe fare Perché Per quanto riguarda I centrocampisti centrali Se dovessimo giocare Con questo ruolo Abbiamo con dobbia T.Elemans E Brozovic Avremo anche L'Axalt Però L'Axalt Sinceramente L'Axalt E abbiamo rimasto Un budget Di Poco Decisamente poco 4 milioni Quindi bisognerebbe Liberarsi un po' Di qualche giocatore Per andare ad acquistare Poi Qualche altro Magari giovane Ecco E poi Il portiere Non credo ci stia più Il portiere Ormai A meno che Non prendo Dragovski Però Non ha senso Prendere Dragovski Sinceramente Per quanto riguarda I portieri Abbiamo dato Bardi A Real Madrid Non si sa Per quale assurdo motivo Volessero Bardi Però René Adler Ragazzi Adler 8 milioni Per Adler Adler potrebbe essere Non sarebbe male Anche questo Zoet Non sarebbe male Ma neanche Keylor Navas 31 79 Io Proverai ad acquistare Anche Keylor Navas Ragazzi Sirigu Mi sa che mi chiedono Troppo Mentre Bootland Avevano accettato Ma 15 milioni Più Bardi Quindi magari Faccio 3 milioni Più Andreoli Magari Mentre ragazzi Proseguiamo Perché non Non ho idea Di come poter fare Per il portiere Ho poco budget Offerta per allenare La nazionale Che scu... La Spagna La Spagna Fatemi sapere Sotto Nei commenti Se Devo accettare O meno La Spagna Io ragazzi La Spagna L'accetterei assolutamente Vediamo quando scade Il contratto Fra qualche Fra un paio di mesi E ci sono C'è il mondiale Ragazzi Con la Spagna Quindi aspettiamo La Spagna C'è anche il Portogallo Ma aspettiamo Pure il Portogallo E quindi ragazzi Finisce qui Questo episodio La Roma Ha già giocato E ha pareggiato Io signori Direi che abbiamo fatto Per il momento Un mercato Pazzesco Mi mancherebbe In realtà Un portiere Un po' più esperto Di Nardi Ragazzi Io vi invito A lasciare un mi piace Un commento Un consiglio Noi ci vediamo Ad un prossimo video Di questa carriera D'allenatore Sotto nei commenti Consiglio per il calciomercato Accetto la Spagna E fatemi sapere Cosa ne pensate Di questo mio calciomercato Secondo me Il voto Di questo calciomercato Si è alzato di molto Ciao a tutti ragazzi